Il ministro Svitkoi desidera consegnare due medaglie al sindaco di Taormina Mario Bolognari e a Alessandro Martinez, segretario generale del premio. Il ministro Svitkoi desidera consegnare, segretario generale del premio. Il ministro Svitkoi desidera consegnare, segretario generale del premio. Il ministro Svitkoi desidera consegnare, segretario generale del premio. Il ministro Svitkoi desidera, 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 segretario generale del premio. Svitkoi desidera, segretario generale del premio. La giuria esprimi nella persona di Ibrahim Espai, presidente del Centro della Pace di Sarajevo, la sua ammirazione e il suo riconoscimento alla sudetta città, per la continuità e qualità della sua attività teatrale durante gli anni della sedia, come difesa dell'immunità, esercizio dell'immaginario e della libertà. Grazie. Mesdames, Messiasi, Messiasi le maire, le representante dell'Europa e, normalmente, le representante del Terminat. Le Terminat, Sarajevo, sono delle organizzazioni, delle villi, dei gruppi di cittadini dell'Europa che sono capace di oggi per fare qualcosa di bene per il mondo, perché c'è un mondo eccezionale, il mondo del teatro. E non solo il mettero in scena, non solo il comediato, non solo il scenografo, non solo il tecniciano, C'è anche il mondo che si trova in una sala. Sono gli spectatori, ma sono sempre con il teatro come dei cittadini dell'Europa. E bisogna rispettare questa crisi a causa di questa solidarietà con il mondo che riflesso per noi. E ogni volta che città la situazione dell'Europa e quando la guerra a Sarajevo, noi abbiamo il teatro per la resistenza, contro la violenza, contro la guerra, ma senza la solidarietà, con tutti i festivali, dei teatri del mondo, con tutte le ville, con tutti i cittadini dell'Europa, particolarmente con la solidarietà, con la vostra ville. Abbiamo il teatro per la sicurezza, con i musicisti che sono, durante la guerra, durante la scienza di Sarajevo, su voi, su vostra casa, con i vostri compatrioti, per la démocratie e per l'avenir. Per questa crisi, la pria è eccezionale per me, e per voi e per l'Europa. Un'altra menzione speciale è stata assegnata dalla giuria al P.TEF di Belgrado, che è uno dei più antichi e più storicamente conosciuti festival internazionali d'Europa. La menzione, la pergamena della menzione, verrà consegnata da Elie Malca a Jovan Chirilov. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. 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 perché superando le dimensioni di un festival è diventato un luogo di un intenso e profondo scambio dove abbattendo ogni barriera anche nei momenti di più rigida separazione si sono confrontate per anni esperienze teatrali dell'est e dell'ovest in una visione utopica dell'Europa e in una prospettiva di pace mai abbandonata. Grazie. 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 Grazie cadenne. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 I want to say thank you to all of them and also another thing which is which always was very important for my theatre work is a group of people I worked together with and especially the actors but also the set designers, costumers, composers and all the people who worked together with me and I want to especially thank three people who have been very important and who are still and I'm very happy that they are still working with me and they are here. tonight with me which is my dramaturg Jens Hillier who worked with me for three years now and the writer Marius von Meilenburg who is very important for my work today and also last but not least the manager to PS5 and I want to thank the three of them and this prize is also for them and for the whole company and the work we did in the last year. Thank you. is 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Passando da un'esperienza provocatoria di gioco all'invenzione di una lingua, dal teatro iconoclasta, al recupero di un'immaginaria tradizione sumera, è arrivata alla piena maturità e a farsi caposcuola del nuovo teatro giovane, affrontando i grandi testi. Fondata da due coppie di fratelli di Cesena, i Castellucci e i Guidi, la Societas è rimasta comunque fedele all'originaria natura di gruppo tribale, in scena con mamme, zie, figli e animali, e si è trovata un secondo ruolo nell'insegnamento a profitto di nuovi attori e di bambini, e del resto al pubblico infantile ha dedicato una serie di messi in scene di fiave non mistificanti. Ma è stato il processo di reinvenzione dei classici sulla propria pelle, basandosi su una comunicazione d'energia a condurre in giro per il mondo, questa compagnia è divenuta una bandiera per i maggiori festival, ed ecco il gruppo di Romeo Castellucci avanzare da un amleto autistico in preda alla propria animale fisicità, in un contesto meccanizzato, alla radicale lettura di un altro Shakespeare basata su una corporeità che non esclude la malattia, e passare quindi a una visione cosmica in due poderosi trittici, quello immaginifico e creativo dell'Orestea e la ricreazione memorabile della Genesi, autoanalisi del lavoro superumano dell'artista e riflessione sulla storia dell'uomo e sul divenire della scienza nel mistero del rapporto tra il bene e il male, in una concezione sempre meno verbale e più visiva di un teatro visitato dalla scintilla elettrica, dove il rincorrersi dei suoni è sempre più determinante nell'attacco emozionale allo spettatore. Senz'altro ringraziamo di questo premio, siamo contenti di riceverlo, anche se mi sento senz'altro non solo di condividerlo ma di rinunciarlo piuttosto ai nostri collaboratori che ci sopportano e che rendono possibile questo lavoro. In particolare vorrei dedicare questo premio alle nostre organizzatrici, Gilda Biesini e Cosetta Nicolini, con il lavoro delle quali è stato possibile anche questo oggetto. Grazie anch'io e soprattutto i nostri collaboratori perché davvero è molto importante un lavoro comune e non solo veramente i nostri collaboratori ma anche i luoghi che ospitano i nostri lavori perché sappiamo di creare molti problemi, quindi ringraziamo anche di questo. Adesso la dottoressa Rossana Rummo, capo del Dipartimento dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, consegnerà, dopo che Franco Quadri avrà letto la motivazione, il premio Europa per il Teatro 2000 a Lev Dodin, direttore del Stato di Roma. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. fosse chiamato nel 1983 a dirigere il Mali per farne un teatro guida di questa fine secolo. La casa nasce come spettacolo del suo gruppo diplomato all'Istituto di Leningrado dopo mesi di permanenza nel paese del nord dove Fyodor Abramov aveva scritto il suo romanzo sui problemi della vita contadina, ricreato sulla scena a colpi di improvvisazione per arrivare alla reale concretezza ritrovata in fratelli e sorelle. Questa tragica epopea del Colcos, ispirata dallo stesso autore a metà degli anni Ottanta svolge in otto ore emozionanti dove il pianto e il riso si rincorrono una ricerca sulla grande anima russa che costituisce una costante per il regista come l'analisi polemica della storia del suo paese con una preferenza per la rielaborazione della narrativa. Un culmine in questo senso è rappresentato dalla messincina di un classico a lungo di fatto proibito in urs come i demoni dostoieschiani provati per tre anni e da nove puntualmente ripresi dal Mali in dieci ore di parole e di visioni da brivido che già implicano un discorso sullo spirito rivoluzionario di un popolo fungendo da preambolo alla metafora dell'utopia suicida espressa da Andrei Platono in Chevengur recente capolavoro del Mali, capolavoro scenico galleggiante sull'acqua come la commedia senza titolo di Chekhov tradotta da Dodin in Una danza dentro il Novecento. Su un piano di neve vive invece Gaudeamus primo degli spettacoli montati con i giovani della scuola satira dell'addestramento sovietico al servizio militare rimasto purtroppo di piena attualità e parte del repertorio incentrato sull'uomo del nostro tempo che la compagnia propone al suo pubblico naturale allargato ormai a tutto il mondo restituendoci il senso di un teatro necessario. Aplausos 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 Grazie.